Venditalia 2024 continua a Venditalia nei corridoi di questa magnifica biennale milanese incontriamo tanti amici è il caso di Jacopo Zonzini l'amministratore delegato della Zonzini SRL l'azienda produttrice di carrelli sali scale conosciuta in tutto il mondo per la sua affidabilità robustezza e devo anche dirla bellezza buongiorno Jacopo e bentornato ciao Fabio buongiorno a tutti grazie per la bellezza dei prodotti e oltre che belli sono anche molto funzionali devo dire sono funzionali sono assolutamente affidabili e sono proprio quelle particolari tecnologie tutte italiane ricercatissime nei cinque continenti del mondo Jacopo sono due anni che non ci incontriamo che cosa è accaduto negli ultimi 24 mesi in casa Zonzini? allora ti spiego come ben sai noi siamo molto attenti all'innovazione e allo sviluppo tecnico e tecnologico dei nostri prodotti in questi due anni abbiamo investito tantissimo per automatizzare completamente il domino il nostro carrello sali scale di punta in buona sostanza sono stati introdotti dei sensori anteriori e posteriori che regolano da sola la macchina quindi diciamo individuano tramite un processo di calibrazione del carico un angolo di trasporto idoneo a seconda delle varie tipologie di distributore che si devono trasportare ma in più c'è l'individuazione automatica sia del pianerottolo che del primo gardino in discesa e questo unito al braccio di stabilizzazione sensorizzato fornisce una sicurezza e un comfort di marcia senza precedenti in buona sostanza Fabio l'operatore deve semplicemente scegliere la direzione di marcia con il joystick quindi marcia avanti per scendere dalle scale e marcia indietro per salire le scale e la macchina fa automaticamente tutti i movimenti da sola beh immagino che a questo punto visto l'avanzamento tecnologico che ogni due anni il vostro carrello domino va a fare andando a proporre al mercato un prodotto sempre più efficiente e sempre più tecnologicamente avanzato posso immaginare che nell'arco di pochi anni andremo a vedere anche l'intelligenza artificiale applicata al vostro magico carrello beh oddio sicuramente è un settore in pienissima evoluzione che ha parecchie sfaccettature e ambiti di applicazione diversi e quindi chi lo sa Fabio in un futuro magari esisterà una macchina completamente autonoma in grado di raggiungere il luogo di destinazione da sola vedremo nel frattempo per chiunque desideri entrare in contatto con la Zonzini naturalmente può andare sul vostro sito che vedete nella didascalia proprio qui sotto oppure scrivere a voi a quale indirizzo elettronico ovviamente senza alcun impegno scrivete pure a info chiocciola zonzini punto it Jacopo Zonzini amministratore delegato della Zonzini SRL grazie ciao grazie a tutti